Ciao! Abbiamo preso degli estratti delle live che ho fatto e li abbiamo resi dei contenuti singoli perché ci sono delle parti, secondo me, utilissime per voi. In questo video vi spiego che cos'è la fonetica, che cos'è la fonetica articolatoria, cos'è la fonetica auditiva e soprattutto perché sono importantissime per te se vuoi migliorare le tue capacità di capire e di farti capire in inglese. La fonetica. La fonetica che cos'è? Non ce la faccio neanche a scrivere. Fonetica, benissimo, è composta da tre aspetti. La fonetica articolatoria, la fonetica auditiva e la fonetica acustica. La fonetica acustica per il momento non ci interessa. Quelle che ci interessano molto sono la fonetica articolatoria e auditiva, cioè lo studio di come muovere i vari pezzi del nostro apparato, del nostro sistema fonatorio, quindi i vari articolatori appunto, la mandibola, i denti, la lingua, i denti non li muoverai, ma come posizionare, ecco, la mandibola, le labbra, i denti, la lingua, il palato, la gola per produrre un certo suono. Quindi hai scoperto che esiste il suono E come in bed e il suono E come in bed. Fantastico! Il passo successivo qual è? Capire qual è la posizione o il movimento corretto per produrre questo suono. Quindi come devo mettermi con la faccia, con la bocca, con la lingua, con i denti, con la mandibola, con la gola, come devo posizionarmi per far uscire il suono E correttamente? Cosa cambia rispetto al suono E? 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 Sono due posizioni diverse, con una, appunto, generazione del suono differente, no? Per cui questa è la cosa forse secondaria e più importante da studiare, cioè come produrre quel suono correttamente. In modo tale che tu, quando hai imparato questa cosa, sarai assolutamente certo o assolutamente certa, mentre parli, di dire una parola o l'altra. Perché tu sai che nella parola bed, letto, c'è un suono che ha quella posizione. Nella parola cattivo c'è un altro suono che ha un'altra posizione e se tu lo fai non puoi sbagliare. Capite? Scompare completamente tutta quella paura e insicurezza che abbiamo nel parlare un'altra lingua perché ci sentiamo che faremo le figure di merda perché abbiamo paura di dire spiaggia perché sennò magari diciamo bitch, al posto di beach. Perché hai paura? Perché non sai qual è il suono che c'è in beach? Che differenza c'è con il suono che c'è in bitch? Beh, allora in beach abbiamo il suono i, come nella parola sheep. In beach, abbiamo il suono e, come nella parola ship, nave. Vedi simboli diversi di cui io, se avessi studiato con intelligenza, ho preso consapevolezza durante la prima parte del mio studio, lo studio della fonologia. E poi due suoni che io ho imparato a articolare correttamente. Quindi qual è la posizione per il suono i, qual è la posizione per il suono e, bitch, beach, bitch. Ci serve qualcuno che ti spieghi come posizionarti correttamente e allora poi non hai più dubbi, non puoi più sbagliare, non puoi più dire Roma per Toma, ma hai la totale certezza di veicolare il messaggio che vuoi intendere. Questa fase della pronuncia, come va studiata dal punto di vista del metodo di studio nel migliore dei modi, sempre rispettando, secondo me, il principio di cui vi parlavo prima, cioè uno studio che sfrutti tutti i canali sensoriali. Diciamo che questa è la cosa minima che vorrei fare per renderti facile apprenderlo. Cioè vorrei che ti fosse chiara e spiegata la differenza in termini di suono, ok? Quindi vorrei farti sentire i diverso da e. Ma non è sufficiente perché molte persone, soltanto a sentire questa roba, fanno fatica, non sentono bene la differenza, sono in difficoltà. Questo è il motivo per cui anche magari dopo anni le persone fanno fatica a coglierla, questa roba. Perché qua non è da dare per scontato che uno sente e riesca a imitare perfettamente il suono. Quindi come minimo quello che vorrei darti come aiuto è l'utilizzo di immagini. In che senso? È delle immagini proprio che rappresentano la posizione corretta dei vari articolatori durante il suono. Ti viene rappresentata la posizione dei denti, vabbè, un po' più piccolo magari, la posizione dei denti, la posizione della lingua, come è posizionato il velo pendulo, il palato, quindi con un'indicazione di come tenere le labbra, come tenere la lingua, in modo tale che tu non abbia soltanto il riferimento di ascolto da sentire, ma hai anche un'immagine che ti fa vedere come dovresti posizionare. L'ideale poi è se oltre a un'immagine hai anche un video, magari un video in slow motion, magari un video come quelli che trovi dentro la nostra academy, con un close up, come dire, uno zoom, ma ancora più vicino di questo, sulla bocca, dove vedi bene come sono messi i denti, come è messa la lingua, con qualcuno che ti descrive quello che sta succedendo. Così vedete, dal punto di vista apprendimento, tu stai assimilando non soltanto attraverso il suono, ma anche attraverso delle immagini di riferimento di come dovrebbero stare i vari articolatori. E infine, ancora più importante, attraverso proprio la sensazione del movimento. Cioè la chiave, secondo me, è la bravura che, ad esempio, dovrebbe avere un insegnante di pronuncia, se esistono, non so se c'è qualcuno che lo fa in modo così specifico come noi, onestamente. Però ecco, la bravura quale dovrebbe essere? È di mettersi lì insieme a te e riuscire a farti fare il movimento corretto, attraverso degli esempi, attraverso la descrizione di cosa muovere, come muovere. Vedete, io una delle cose che più di tutte apprezzo delle aule studio e di quello che mi chiedevano anche prima è questo, che ascoltando una persona mi riesco a rendere conto del movimento che fa in modo corretto o scorretto. e gli riesco a dire, no, guarda, stai facendo questo suono, ma la tua lingua dovrebbe stare in un altro posto. Prova a metterlo lì. È questo che dovrebbe succedere. Cioè che ti viene spiegato il movimento, la posizione, così tu la senti, la senti fisicamente. Senti come hai fatto a emettere quel suono, il tuo cervello lo registra. Questo processo, ragazzi, non è fantascienza, è quello che avviene in modo naturale quando tu impari una lingua da madrelingua. Cioè crescendo senti quel suono e per imitazione non lo riesci a produrre. Il punto qual è? È che quando lo fai su una lingua straniera da adulto, non hai la stessa... Non hai la stessa naturalezza di un bambino e non hai neanche tutto il tempo e la voglia di aspettare gli anni per produrre i suoni in modo corretto. Quindi farlo guidato da un esperto in modo intenzionale che ti dice qual è la posizione corretta ti facilita la vita. È esattamente come se tu dovessi imparare a giocare a tennis o a sparare in modo preciso al poligono e un contesto lo fai da solo. Cioè stando lì da autodidatta per anni a cercare di fare l'impugnatura corretta della pistola e a migliorarti. Oppure se lo fai con un coach che ti guarda e ti dice no, guarda, questo deve stare così, l'impugnatura cos'ha, la respirazione è fatta in questo modo, le mira le devi allineare in questo modo. Cioè fare un lavoro intenzionale guidato da un esperto è molto vincente. La cosa che vi vorrei dire oggi è che è importante farlo a tutti i piani. Quindi tu dovresti avere a disposizione nello studio della fonetica articolatoria i suoni corretti, delle immagini che rappresentano la posizione corretta e qualcuno che ti guida nel fare il movimento o la posizione giusta. Così tu sei assolutamente certo o assolutamente certa che se dici bitch è una cosa, bitch è un'altra cosa. Che dici sheep ed è una cosa e sheep è un'altra perché hai familiarizzato con il movimento. Attenti ad una cosa. Sto parlando quindi di creare una nuova abitudine di movimento ed è un processo che ovviamente non succede in cinque minuti. Certo succede in cinque minuti per te la comprensione. Se tu ti metti con me in una zoom da dieci minuti e io ti devo spiegare un suono, io ce la faccio sicuramente a insegnartelo corretto e riesco sicuramente a fartelo fare in modo preciso. Il punto poi qual è? È che tu non devi soltanto saperlo fare una volta, ti devi abituare. Per questo è utile avere costanza, avere a disposizione dei materiali da poter rivedere, da poter riascoltare, che ti spiegano il movimento e che ti permettono dopo un po' di pratica di esserti abituato. E di creare una serie di collegamenti, connessioni e abitudini nel tuo cervello che diventano il tuo registro linguistico mentre parli in inglese. Cioè, il punto dovrebbe essere che quando switchi all'altra lingua, inizi a pensare in inglese, a muovere la faccia in modo diverso, addirittura la tua voce potrebbe cambiare, e assumi una pronuncia adeguata per quella lingua, che deve essere assolutamente diversa dall'italiano. Perché a livello di movimento e di suoni, l'italiano è molto diverso dall'inglese, si usano parti diverse, la vibrazione del suono viene generata in punti differenti rispetto all'inglese. Io mi rendo conto che quando parlo italiano o quando parlo inglese, ho un tono di voce anche diverso, un volume anche leggermente diverso, ed è normale proprio perché usi un movimento differente. Ok? Quindi questo per quanto riguarda la fonetica articolatoria. L'ultimo passo è la fonetica auditiva, cioè la capacità di ascoltare e di distinguere i suoni. Quindi, ad esempio, no, abbiamo parlato delle minimal pairs, tipo beach o beach, l'ultimo step di allenamento fondamentale per allenarti, soprattutto nell'ascolto, è imparare a sentire una parola e capire qual è il suono che c'è dentro. Cioè, senza averlo scritto davanti, io in questo momento scrivo una parola qua e la pronuncio. Ed è la parola pan. Che cosa ho detto? Ho detto penna o ho detto padella? Ecco, la fonetica auditiva è quella capacità che ti permette di capire che io ho detto pan, quindi padella, con il suono e, come in bed. E non ho detto invece pan, che contiene invece il suono e, come in bed. Riuscire a distinguere i due suoni, a sentirli e a capire quale è uno e quale è l'altro, è fonetica auditiva. Questa come la si allena? Eh, qua non c'è tanto da essere strategici o quant'altro, qua bisogna allenarsi, perché bisogna proprio allenare l'orecchio. L'esercizio migliore in assoluto che io consiglierei per questo tipo di lavoro è l'allenamento sulle minimal pairs, che mi avete sentito nominare tante volte. E vuol dire allenarsi su delle coppie di suoni vicini fra loro, come quelli che abbiamo visto oggi, no? Ad esempio, il suono e e il suono e e fare magari dei quiz. Quindi ci sono delle coppie di parole, no? Tipo, che ne so, gas, gas, pen, pen, che ne so, bed, bed, eccetera, eccetera, eccetera. Fare dei quiz in cui senti una delle due e a scelta multipla devi capire qual è quella che è stata detto e allenandoti, allenandoti, allenandoti e in contemporanea lavorando sulla fonetica articolatoria migliori sempre di più. Una chiave per migliorare nella fonetica audittiva, oltre all'ascolto, è anche lavorare bene sulla fonetica articolatoria, perché quando tu ti abitui a fare la posizione corretta e a sentirti dire un certo suono, è più facile anche distinguerlo quando lo ascolti. Un feedback molto figo che ho avuto ultimamente da uno dei miei allievi, che segue l'Academy ormai da tre mesi, Gigi, è stato questo, che è vero, sicuramente si sente di lavorare sulla sua pronuncia mentre parla e di apprendere i suoni, ma uno degli effetti più positivi che ha avuto nel partecipare all'Academy è stato che ha migliorato nell'ascolto e questo è normalissimo perché, che cos'è l'ascolto? È la tua capacità di riconoscere dei suoni e quindi in definitiva non puoi riconoscere ciò che non conosci, per cui è normale che lavorando sulla fonologia e sulla fonetica articolatoria migliora anche l'ascolto, perché sai finalmente, il tuo cervello riesce ad afferrare quali sono i suoni che vengono detti e a capire quantomeno qual è la parola che è stata detta, poi si tratterà di lavorare sulla semantica e su sapere cosa vuol dire quella parola, però l'ascolto migliora di moltissimo facendo questo lavoro. Se volete una risorsa molto figa, molto utile, molto gratuita con cui lavorare sulle minimal pairs, c'è la nostra pagina Instagram che nelle storie in evidenza ha centinaia di quiz, ma tipo 3-400 quiz che potete usare per fare pratica, dove c'è l'audio e poi con la funzione quiz di Instagram potete dare la risposta esatta. Tutti i lunedini escono di nuovi, però nelle storie in evidenza ne trovate già un casino. Mi auguro davvero che questo video ti sia stato utile, che tu possa aver preso degli spunti o imparato dei concetti che non conoscevi e che ti serviranno per imparare meglio l'inglese. Se hai delle domande, delle cose che vuoi chiedere, puoi farlo qui sotto nei commenti, che è apprezzatissimo, ci aiuta anche molto nella nostra crescita su YouTube, altrimenti puoi entrare nel nostro gruppo Telegram, che ti metto qui tramite questo QR code, oppure trovi il link nella descrizione. La community di Telegram serve proprio per poter essere più vicini, per poterci confrontare, per farmi delle domande, per avere un contatto più diretto. Fra l'altro, entrandoci, verrai contattato o contattata dai nostri moderatori, che ti parleranno anche delle nostre aule studio sulla pronuncia, a cui hai possibilità di accedere gratuitamente per due volte. Se ancora non lo fai, non lo sei iscritto al canale, fallo, iscriviti, metti il mi piace, notifiche attive, tutto quello che vuoi, così quando escono i nuovi video sei subito aggiornato o aggiornata e puoi vedere le cose nuove che ci sono, le live, un sacco di contenuti che stiamo creando per poterti essere ancora più utili. Ci vediamo presto e nulla. Ciao, buono studio dell'inglese e vedrai che con il giusto metodo e con la giusta strategia puoi impararlo anche tu. Puoi finalmente arrivare a capire e parlare l'inglese come se tu fossi un madrelingua. Si tratta solo di imparare come fare a ottenere questo risultato. Ciao, buono studio dell'inglese e vedrai che con la giusta strategia puoi imparare come fare a ottenere questo risultato.